Nelle ultime ore si torna a parlare di VAR nel campionato di Serie C. Gli ultimi errori arbitrali, oramai all'ordine del giorno, fanno storcere il naso a molti club di Lega Pro che vedono alcuni risultati e talvolta anche l'andamento della stagione, condizionati da tali errori. Non ultimo, l'errore dell'arbitro Zanotti in Pescara Juve Stabia, gara terminata 2-2 ma condizionata dalla rete annullata lo scadere a Merola. Il direttore di gara ha fatto mea culpa con la società abruzzese, come evidenziato dal comunicato diramato dal club di Sebastiani, ammettendo l'errore sul gol annullato. Ad amplificare la questione VAR in Lega Pro ci ha pensato anche il presidente del Potenza, Donato Macchia, che in un'intervista ha sottolineato le necessità di tale strumento, evidenziando come il club lucano sia stato penalizzato da alcune scelte arbitrali nel corso della stagione. Della stessa opinione anche il tecnico dell'Ancona, Gianluca Colavitto, che ha evidenziato la necessità di introdurre i VAR il prima possibile. Sarebbe ora di utilizzare la tecnologia anche nella nostra categoria. Gli arbitri vanno aiutati, non hanno un compito semplice, però noi ne subiamo le conseguenze. E' arrivato il momento che i nostri arbitri siano aiutati dalla tecnologia. Un tema sempre più preponderante nel campionato di Serie C con il presidente Marani che spinge in questa direzione, ma molto dipenderà anche dalla possibile riforma dei campionati che dovrebbe venire applicata entro il 30 giugno 2023. Applicare il VAR ha bisogno anche di strutture idoni e di ingenti investimenti per i club ed è difficile immaginare che tutte le società di Lega Pro riescano a munirsi di tali strumenti, considerando anche l'inadeguatezza di molte strutture presenti nel campionato.